Quando scattiamo una bella fotografia siamo portati a pensare che ormai il lavoro sia finito, eppure nel corso del video di oggi vi farò vedere tre cose che possono ancora andare storte quando torniamo a casa e ispezioniamo la nostra fotografia a computer. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per mestiere da tanti anni. Su questo canale vi porto le mie esperienze in maniera tale che tutti quanti possiamo crescere e migliorare il nostro approccio alla fotografia, anche perché la fotografia non è una cosa di nicchia, seguire un canale di YouTube di fotografia non è una cosa di nicchia solo per smanettoni, ma è una cosa che ci riguarda tutti, perché se non l'aveste notato stiamo tutti su Instagram sette ore e mezzo al giorno e quindi la fotografia è una cosa che riguarda tutti, nessuno escluso ormai. Per questo motivo io vi invito a iscrivervi subito al mio canale cliccando il bottone qui sotto, sicuramente ci saranno dei contenuti che vi interesseranno di più, altri che vi interesseranno di meno, ma una cosa è certa, imparerete qualcosa ogni settimana. Cominciamo subito e io vi faccio vedere questa fotografia che voi direte non ha niente di particolare, non è particolarmente bella, è una fotografia assolutamente descrittiva che io ho fatto dal balcone di un appartamento che stavo fotografando, il cliente voleva che si vedesse la via, che si vedesse che c'è un parco davanti, per cui abbiamo fatto una foto a sinistra, una foto a centro, una foto a destra, in maniera tale che si vedesse tutto. Non ha importanza la fotografia adesso, perché quello che è importante è quello che andremo a fare a questa fotografia. Diciamo che questa foto va già bene così, nel senso che questa è una fotografia scattata in HDR, bracketing a 3 stop, quindi abbiamo mantenuto i dettagli sia nelle alte luci sia nelle ombre, la gamma più o meno è corretta, è già pronta così per essere usata, quindi non ci sarebbe granché da fare. Questa è l'immagine finale che io consegno al cliente, può anche non essere più toccata. E questo è quello che ci troviamo spesso ad affrontare, nel senso che abbiamo scattato una fotografia che potenzialmente è già pronta così. Ma noi non resistiamo e la vogliamo pastroniare a tutti i costi, perché Instagram ci ha insegnato che se tiriamo dei fader a caso, la fotografia rispecchierà di più quella che è la nostra indole artistica e quindi è meglio così. Questa è una cosa secondo me su cui non è che dobbiamo evitare, ma su cui dobbiamo riflettere parecchio. E adesso andiamo a vedere perché. Come potete vedere siamo all'interno del modulo di sviluppo di preview su Apple. Non apro non scomodo neanche Lightroom per farvi vedere questa cosa. Allora, il primo grande errore che possiamo fare, secondo me, è quello di giocare col contrasto in maniera maldestra. Guardate che cosa succede se io uso male il contrasto. Guardate soprattutto il cielo, perché quella è la cosa più evidente. Ci sono dei disastri anche nelle ombre per quanto riguarda gli alberi in basso, però se voi guardate il cielo vedete in maniera molto evidente che c'è il fenomeno del bending, ovvero i colori non si separano più correttamente e quindi abbiamo delle scie di colore diverso e si passa nettamente da un tipo di blu a un altro tipo di blu con delle creste frastagliate che sono orrende da vedere. Inoltre tutta la foto assume dei toni assolutamente irrealistici. Primo grande errore, non giochiamo a caso col contrasto. Secondo grande errore, non giochiamo a caso con la saturazione. Vedete infatti cosa succede se tiriamo la saturazione a caso? Ora, il cielo può anche sembrarci meglio. Anche se io vi garantisco che non era così il cielo. Il cielo era il tipico cielo di Milano, quindi non era bello azzurro. Se noi tiriamo la saturazione a casaccio, vedete che i colori assumono delle tinte irrealistiche. Non ci sono questi colori a Milano, non è così brillante questo verde. E se noi tiriamo la saturazione in questo modo, non stiamo facendo vedere al nostro pubblico, a chi le guarderà una foto più bella. Gli stiamo facendo vedere una foto pastrugnata. Il fatto che a primissimo impatto, perché anche a me ha primo impatto, io tiro tutto e dico, ah che bello, è molto più primaverile, è molto più fresca, molto più colorata. Il colore corteggia il nostro occhio. Il nostro occhio lo guarda più volentieri un colore acceso e brillante. Figuratevi se non le so io queste cose. Lo so, ma noi che la stiamo manovrando la foto dobbiamo sapere che una saturazione come questa, oltre a sembrare completamente irrealistica, oltre a farci fare la figura di quelli che non sanno post produrre, perché è così, ci stancherà molto presto. Una volta che noi ci siamo fatti un feed di Instagram o un album di stampa con foto tutte strattaroccate in questo modo, poi le riguardiamo e non ci piacciono più, perché sono completamente innaturali. Quindi questo secondo me è un altro grande errore assolutamente da evitare. Così come è da evitare di portare la saturazione a zero per fare il bianco e nero. Questo non perché sia completamente sbagliato fare il bianco e nero in questo modo. Possiamo fare il bianco e nero portando la saturazione a zero, ma non è il metodo migliore. Per fare il bianco e nero esistono dei filtri fatti apposta per gestirlo il bianco e nero e quindi avere un output in bianco e nero gestito e non randomico. Portare la saturazione a zero è randomico e quindi io sono assolutamente contrario a tutto quello che è randomico. Quindi in ogni caso la saturazione, se volete un consiglio mio, massimo più dieci, non andate mai oltre il più dieci con la saturazione e non andate mai sotto il meno cinquanta. Perché se state tra zero e meno quaranta togliete un po' di saturazione e ci può stare, diventa un effetto un po' reliccato, un po' vecchio. Ma se andate a saturazione meno novanta, cioè lasciate il dieci per cento del colore e ne togliete il novanta per cento, non ha senso secondo me. Quindi comunque occhio alla saturazione, non usiamola a casaccio. Terza e ultima cosa che può sembrare blanda però ha un impatto importante sulle nostre immagini è la nitidezza. Vedete qui che abbiamo il fader sharpness, se lo portiamo a meno cento vedete subito che cosa succede. L'immagine perde nitidezza e sembra una foto sfoccata, scattata, sbagliata. E questo è evidente a tutti, è brutta scattata così, non ha senso, quindi è inutile diminuire la sharpness in questo modo. Possiamo diminuire la sharpness localmente, quindi per esempio una cosa che io faccio spesso è che vado ad ammorbidire l'incarnato togliendo un po' di nitidezza, ma localmente con dei pennelli che vanno a lavorare solo sull'incarnato, non su alte aree, non sui capelli, non sugli occhi, non sulle labbra per esempio. Lì la nitidezza ci vuole. Ma l'altro errore che possiamo fare, che è ancora più subdolo, è quello di usarne troppa di nitidezza. Ora vedete che cosa succede se io vado a più cento? Vedete che l'immagine diventa troppo nitida, diventa così nitida che diventa palesemente innaturale, è evidente che è stata ritoccata. Guardate i dettagli, guardate le foglie degli alberi, guardate le automobili posteggiate. Diventa una fotografia che sembra terribilmente artefatta. Perché? Perché la nitidezza non si può aumentare a computer. Questo vi sembrerà strano, ma nonostante ci sia un controller per la nitidezza, la nitidezza non può essere aumentata a computer. Quindi quello che sta facendo il computer sta andando a fare delle regolazioni sul microcontrasto in modo da rendere maggiore la differenza tra i pixel grigi chiari e i pixel grigi scuri. Quindi la nitidezza rimane la stessa, però avendo più contrasto tra le aree di microcontrasto noi percepiamo una nitidezza maggiore. Questa cosa in stampa si traduce con una stampa orrenda e anche se la pubblichiamo sui social comunque avremo un'immagine che sì sarà nitida però è il classico over sharpening di cui molti si lamentano delle foto artefatte di iPhone per esempio. iPhone fa esattamente questo, tira la nitidezza oltre un livello di guardia dove diventa palesemente innaturale, palesemente artefatta. Ora io non vi dico che non dovete aumentare proprio la nitidezza perché ci sta, io stesso lo faccio, anch'io aumento la nitidezza delle mie foto, però un conto è aumentarla di 10 punti, 15 punti io non lo faccio, 15 punti per me è già troppo, 20 punti secondo me è il limite, non andate mai oltre il 20, mai oltre il più 20 sulla nitidezza perché a meno che non sia una foto cannata, avete sbagliato il focus e allora state provando a recuperarla, però anche lì è un'impresa disperata, piuttosto usate l'intelligenza artificiale a quel punto per recuperare una foto palesemente sbagliata. Però in ogni caso se andate oltre il più 20 di nitidezza di solito il risultato che ottenete è un'immagine artefatta che difficilmente regalerà emozioni genuine, quindi io vi consiglio di non farlo. E queste sono tre cose che possono andare molto storte anche su una foto scattata bene e anche dopo che l'abbiamo scattata perché sono tutti errori che facciamo in post produzione prima di pubblicare o di mandare al cliente le nostre fotografie finali. Io mi auguro che questi tre consigli siano stati d'aiuto, vi ricordo di iscrivervi al canale perché ne arriveranno molti altri per cui se vi iscrivete adesso rimanete aggiornati, non vi perdete i prossimi contenuti. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!